La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Sembra che l'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sia rimasto folgorato sulla via di Damasco. In un articolo sul Financial Times avvertiamo infatti la sua conversione verso una linea finanziaria espansiva. Per affrontare i gravi contraccolpi economici provocati dall'emergenza Covid-19. Draghi condivide che questa catastrofe eccezionale impone la necessità di spesa degli stati. Perché, come ha affermato lui stesso, le guerre erano finanziate aumentando il debito pubblico. Ed oggi siamo in guerra. Questo è vero, ma ricordiamoci però che Draghi è quello che disse che un paese con il debito pubblico troppo alto perde sovranità perché a quel punto decidono i mercati. Assicuriamoci allora che non sia questo il motivo per cui ne approfitta oggi per invitarci a far crescere quel debito. Cosa accadrà quando la guerra sarà finita? Quel debito sarà quasi completamente abbonato, come è accaduto in passato con altri paesi, oggi egemoni in Europa, o diventerà invece l'arma da usare contro di noi in un altro tipo di guerra, a cui ci ha abituati proprio il cartello finanziario internazionale di cui Mario Draghi è un esponente di spicco. Riflettiamo nuovamente su quelle due frasi. In un paese con debito pubblico alto decidono i mercati. Poi seguito dall'invito a fare debito pubblico per superare l'emergenza. Vi invito ad una riflessione perché queste due frasi pronunciate in questo ordine sono state pronunciate dalla stessa persona. Ricordiamo anche che ad oggi i morti per motivi economici a causa dell'austerity imposta dalle istituzioni europee sono di gran lunga superiori a quelli da coronavirus. Quindi facciamo molta attenzione quando chi si è reso protagonista e promotore dell'austerità si offre oggi di darci le soluzioni. Se Draghi ha davvero subito una conversione l'affronti allora da pentito e ci aiuti a scoperchiare la pentola del sistema di cui ha fatto parte. Altrimenti vuol dire che ha solo cambiato maschera ma è sempre dalla parte dei nemici del popolo italiano. Allora ricordiamo da dove proviene Mario Draghi che in qualità di direttore generale del Tesoro ha preso parte alla riunione sul Britannia che ha dato il via alla folle svendita del patrimonio pubblico italiano alla Goldman Sachs e ad altri potentari bancari anglo-americani. Ricordiamoci che lo stesso Draghi è stato vicepresidente proprio della Goldman Sachs ossia la banca che ha indotto la crisi sui mercati in Europa. Ricordiamo che come membro del gruppo dei 30 ha promosso l'uso dei derivati che hanno di fatto causato la crisi economica mondiale. Ancora non è stata quantificata la cifra di derivati tossici che proprio Mario Draghi filmò negli anni 90. Come presidente della Banca d'Italia si è reso poi complice di quel colpe finanziario che ha portato nel 2011 alla caduta di un governo democraticamente eletto attraverso la lettera inviata all'esecutivo in carica per destabilizzarlo. Come presidente della Banca Centrale Europea si è reso responsabile di non aver vincolato i prestiti effettuati alle banche a prestiti alle aziende e all'economia reale. Ricordiamo anche che ha affidato in qualità di governatore della BCE gli stress test delle banche europee al più importante investitore internazionale proprio del settore bancario ossia il colosso americano BlackRock generando così un incredibile e palese conflitto di interessi anche alla luce del fatto che il vicepresidente della BlackRock siede proprio con lui nel gruppo dei 30 che include alcuni dei massimi dirigenti delle banche commerciali su cui proprio la BCE dovrebbe vigilare. Mario Draghi è membro del Bilderberg membro della commissione trilaterale di Rockefeller membro del potentissimo gruppo dei 30 come abbiamo visto membro dell'Aspen Institute è proveniente da quella banca che invitava i paesi europei a stracciare le proprie costituzioni questo è Mario Draghi approfondimenti sul sito francescomodeo.it un caro saluto agli amici di Radio Radio la Matrix europea la verità dietro i giochi di potere con Francesco Amodeo